Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente in via Zara, angolo via Alto Adige. Beh, alle mie spalle vedete la struttura, quello che resta della struttura del Magna Grecia, appartenente di proprietà del comune di Taranto, facente appunto parte del patrimonio dell'ente civico tarantino. Una struttura che conosciamo tutti le vicende giudiziarie, che l'hanno vista tristemente protagonista, la chiusura della stessa struttura e lo stato di abbandono. In seguito a questo stato di abbandono, vedete, i locali sono stati completamente distrutti, depredati da vandali con danni enormi. Si è fatta poi una gara, ora sto cercando di riassumere, si è fatta una gara per assegnare nuovamente la struttura. Ovviamente preventivamente andranno realizzati lavori di ristrutturazione ex novo. E si è arrivati a questa soluzione, c'è stata praticamente l'aggiudicazione ad unati, aggiudicazione per la quale coloro i quali si sono aggiudicati appunto la struttura, la gestione della struttura, pagheranno 45 mila euro di fitto mensile e si accolleranno 500 mila euro di costi per ristrutturare, per rendere dignitosa la struttura, visto che è stata completamente distrutta. Quindi questo era l'accordo che si era raggiunto e quindi quest'atti si era giudicata appunto la gestione del Magna Grecia per 15 anni, se non che ci sono state ulteriori devastazioni per un danno, udite udite, di altri 650 mila euro. E qui si crea la situazione di blocco, tra virgolette, perché ora bisognerà vedere in che modo coloro i quali si sono aggiudicati la gestione della struttura dovranno fare fronte. Un'ipotesi era quella di azzerare il fitto dei 45 mila euro mensili e convertirlo in buona sostanza nell'accollarsi le spese per riparare questi danni ammontanti a 650 mila euro. Quindi pagherebbero 500 mila più 650 mila, la cifra derivante dagli ulteriori danni, e quindi non pagherebbero più il fitto. Questa è un po' la situazione. Nel frattempo, dicevo, nelle more di questa situazione, la struttura del Magna Grecia è congelata perché si dovrà ristabilire il rapporto economico con chi si è aggiudicato la gestione. Intanto la struttura giace così, abbandonata, devastata, e se non si interverrà prontamente registreremo devastazioni su devastazioni. Va bene che poi più di quanto si è devastato, in effetti, è distrutto, non si può ulteriormente fare. In ogni caso è davvero peccato che questa struttura, che comprendeva attività sportive, ma anche che aveva al suo interno sale per convegni, per meeting e quant'altro, una bella realtà elegante in una zona centrale della città, è un peccato che sia così abbandonata. Vedete, non siamo riusciti a entrare perché ovviamente è tutto chiuso, ma dall'esterno vedete proprio il saccheggio che c'è stato. Allora ci rivolgiamo all'amministrazione comunale, all'assessore Vigiano, assessore comunale al patrimonio, affinché quanto prima si trovi una soluzione e si ridia la giusta dignità, il giusto splendore a questa struttura, il Magna Grecia, che è certamente una perla di Taranto. Dallo sportello del cittadino è tutto. Alla prossima.